Cos'è questa? Pizza. Pizza? Cos'è questo? Biscotti. Giustamente Chiara Ferragni scrive food filter trend con una bambina che ama solo mangiare. Questa è Vitto versione brioche e questa è Vitto versione melella. Guarda. Passiamo a qualcosa di più serio. Chiara Ferragni che indossa un puffer jacket di Tommy Hilfiger sotto maglioncino con camicetta. Tutto molto semplice, molto sportswear, poco complicato. Quest'anno vanno questi look, tranne che Valentina Ferragni ci mostra questi occhialoni un po' strani. Questo è il posto dove ha abitato Valentina Ferragni per 7-8 anni. Mi scrive in centro a Milano. Adesso si trasferita non so dove, però ha una casa bellissima. E invece questa è Chiara Ferragni come Vittoria Becca negli anni 90. Bene, ciao!